Il 30 gennaio 2015 è tratta e presenta Business Art assieme all'associazione Modo perché quest'anno rientra all'interno del progetto Young People's Business in convenzione con la regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno obiettivo Europa, abbiamo dei regolatori internazionali che ci parleranno di imprese creative e di network per le imprese creative. Nel pomeriggio saremo ospiti del Friuli Future Forum con la Caposcari che ci parlerà della connessione fra impresa, artigianato e creatività. Perché far incontrare l'impresa con i progetti creativi? Perché entrambi sviluppano delle logiche legate alla propria ricerca che possono entrare in sinergia e creare innovazione. Noi crediamo che l'innovazione sia possibile anche attraverso un supporto e un'iniezione di creatività. Ok, I'm very happy to be here in Udine today because I think it's a great initiative to combine business and arts and that is what the conference is about. I have great experience in working with businesses who see great potential in searching for new ideas in the creative industries and I think that that is what is needed today. We need to come up with new ideas, we need to find new solutions. So the best way is to cooperate with somebody who has a creative mind. If you are a business you can find new ways to to approach your clients, the markets and maybe even change your products in a way that is innovative and I think working across sectors also with public institutions is the way that we can create new jobs and find growth and prosperity. I'm very happy to be here in Udine taking part at the business means art event. I'm presenting a little bit what is the Swedish experience in working with artists in companies to develop innovation projects and there are people investing in this and important is to understand why and what are they looking for. Some part is inspiration, some part is capacity building. In our knowledge, our experience, they want three things. They want to turn the technical knowledge that they have into wisdom, knowing how to apply it in the best way. They want to look for empathy, understand what they do, how it impacts other people and society and the sector they are working with and also flexibility. They want to go from being institutions to being communities involving both internal stakeholders, employees and experts but also society as a whole, consumers and others. Okay. Allora, sono qui a Udine, contentissimo di essere in questo territorio per raccontare un'esperienza che è quella di Perugia 2019, città candidata a capitale europea, che è capace di descrivere soprattutto un'esperienza sul piano del metodo, o tre del merito. E nel metodo la connessione tra territorio, corpi intermedi, associazioni di categorie, sistema camerale, imprese è stata sicuramente un baricentro di tutto il progetto. Allora, raccontare questo, raccontare quali possono essere gli elementi anche che favoriscono questo tipo di convergenza tra mondi e, come dire, approcci e culture diverse, credo che possa essere un elemento di riflessione. Grazie. Grazie.